ora i tasti importanti partiamo dal basso guardiamo guardiamo qua primo tasto è mute quando lo clicco non mi sentite è utile è utile perché qualche volta c'è qualche rumore a casa vostra rumore per voi rumore per tutti e quindi è meglio mettere mute oppure per la vostra privacy dovete rispondere al telefono una telefonata importante la mamma vi chiama e mettete mute stop video ecco qua lo clicco e non mi vedete più quando lo riclicco eccoci qua non so se siete fortunati ma rivedete la mia faccia lo cliccate per le stesse ragioni per una questione di privacy perché avete un attimo qualche cos'altro da fare in genere alla scuola leonardo quando ci mettiamo in pausa 15 minuti di pausa all'interno delle tre ore di lezione noi li clicchiamo tutte e due eccoci qua così è una vera pausa non stiamo più con gli altri ecco come controllare invece i vostri settings audio e video per essere sicuri di poter sentire e essere sentiti e vedere essere visti bene questi sono questo è il pulsante mute che serve per mettere o togliere la voce accanto c'è questa freccetta e come vedete potete andare su audio settings e qui potete vedere la situazione per quanto riguarda le casse e il microfono per quanto riguarda la cassa possiamo vedere qua da questo menu quale stiamo usando e se dobbiamo in caso cambiarla questo caso vedete quella degli auricolari my headphones e basta cliccare qui per fare il test e si sente un suono e quindi significa che la cassa è correttamente correttamente usata quindi sappiamo che funzionerà anche durante la lezione per il microfono la stessa cosa si apre questo menu e come vedete ci sono diverse possibilità a seconda dei microfoni che avete installati sul vostro computer anche qui fate il test che registra la vostra voce e poi avete la la possibilità di risentirlo tutto qua non c'è molto altro da sapere se avete un problema provate a cambiare da questo menu probabilmente avete selezionato qualcos'altro ed è questa la ragione per cui non riuscite a sentire o non siete sentire o non siete sentiti per quanto riguarda il video invece i settings sono qua sulla freccetta vicino e potete controllare che tutto funziona potete anche migliorare la vostra immagine cliccando qua touch up my è un po' come un filtro di instagram sembriamo tutti un po più belli un po più finti forse sceglierete voi un altro pulsante divertente è questo quello del virtual background che potete cambiare se volete però attenzione perché non sempre si vede bene io qua un po di opere d'arte perché mi piace l'arte ma come vedete non sempre funziona benissimo adesso non è funzionato bene però vi potete divertire se avete uno schermo adeguato può essere divertente ma l'importante è che ci possiamo vedere sempre va bene questo è tutto per quanto riguarda audio video grazie a tutti